Ecco il tuo compito, ti ricordi del progetto Gamma? E' tornato in auge. So che c'è un'organizzazione di spie che vuole mettere mano al progetto, tu devi impedirlo, ma anche seguire le spie per carpire informazioni. Sa cos'è il progetto Gamma? Lei sa del progetto Gamma? Parlami del progetto Gamma. Progetto Gamma? Che cavolo sarà? Adesso può essere pericoloso lasciare troppo a lungo il mondo là fuori. Meglio che me ne vada. Ho altre cose a cui pensare io. Ho nuove informazioni sul progetto Gamma che ti interesseranno. Devi sapere che ho deciso di intraprendere questa carriera per un motivo ben preciso. Come? Altro che nuove viste. Questi bracolano nel buio. Mi caserai adesso? Ciao, torno... Non so quando torno. Perfetto. Ti mando poi un sms di conferma, ma non credo che ce ne sarà bisogno. Questo è quanto? Non so quando torno. Perfetto. 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 Perfetto.